Sono Antonella, benvenuti nel mio bed and breakfast, il giardino in vida neoclassica. Questo è il salone dove io faccio le colazioni, di qua ci sono le camere. Se volete passare una giornata di vero relax in Parzanica, c'è aria buona e a pochi passi da qui potete ammirare una vista bellissima. Ci sono dei sentieri favolosi che si possono percorrere dalla nostra chiesetta alla Santissima e poi abbiamo il nostro osservatorio Belvedere. Siamo a pochi passi, a dieci minuti dal lago. Grazie a tutti.